Per il terzo anno consecutivo il comune di Sala Consilina supera la quota del 65% nella raccolta differenziata dei rifiuti, confermandosi tra i primi 10 comuni ricicloni della regione campania, nella categoria tra i 10.000 e i 20.000 abitanti. Un risultato davvero soddisfacente che si associa da un lato a circa 1.500.000 euro risparmiati negli ultimi 4 anni del comparto dei rifiuti e dall'altro ad un servizio di raccolta differenziata efficiente, con una raccolta porta a porta capillare che prevede possibilità di agevolazioni per cittadini e aziende, il tutto contenendo i costi per i cittadini di Sala Consilina. Il 2018 è stato un anno molto importante per il comune di Sala perché sostanzialmente in quest'anno abbiamo esternalizzato il servizio sia di raccolta, spazzamento e taglio erba che è stato affidato a tre cooperative locali dopo un regolare concorso e si è che sia abbiamo affidato i conferimenti a una ditta che per i prossimi tre anni avranno il compito di smaltire sia di conferire i rifiuti e sia di fare la raccolta e il conferimento dall'isola ecologica. È un anno importante perché nonostante ci sono state notevoli problematiche extra comunali per quanto riguarda le notevoli storie che hanno riguardato incendi e altre di ditte dove noi conferivamo, siamo riusciti comunque a mantenere i costi in maniera calmerata e siamo riusciti a mantenere un livello di raccolta differenziata assolutamente ragguardevole. Per il terzo anno consecutivo abbiamo superato la quota del 65% di raccolta differenziata, confermandoci come uno dei dieci comuni per il terzo anno consecutivo che è della regione Campania tra i comuni riciclone tra i 10.000 e i 20.000 abitanti. Abbiamo, come dicevo, mantenuto bassi i costi e sicuramente ci saranno una riduzione per quanto riguarda le utenze non domestiche. Già l'anno scorso avevamo avuto una riduzione per le utenze domestiche e quest'anno le abbiamo concentrate soprattutto per quanto riguarda le utenze non domestiche. Bisogna dire inoltre che tutti questi modi e questi cambiamenti hanno sicuramente riguardato un sistema che è un sistema molto efficace, molto efficiente. Teniamo presente che noi riusciamo a raccogliere l'umido tre volte a settimana, raccogliamo il vetro, facciamo l'unico, forse uno dei pochi paesi che fa la raccolta porta a porta del vetro ogni 15 giorni, raccogliamo il cartone presso le utenze non domestiche, quindi le utenze commerciali praticamente da lunedì alla sabato, per cui abbiamo un paese che è molto pulito, molto decoroso. Siamo riusciti comunque a garantire delle agevolazioni per quanto riguarda le attività che si sono aperte nel nostro territorio, di cui siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto dei risultati che sono lusinchieri, che sono in continuazione di quanto abbiamo fatto in questi cinque anni, che il nostro unico obiettivo è quello di razionalizzare il servizio e di consentire a che il Comune avesse e quindi i cittadini delle tariffe in linea con quelle degli altri paesi e che ci fossero dei costi certi e non aleatori.